...questa grande torpedo... ...non vedo il numero... numero 68 l'equipaggio che fa tirare su da Luce Murdo non è questa la macchina numero 68 forse c'è un errore ... ...it' sceglie ... 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 1955, suppongo, c'è stato un cambio perché si era rotta la macchina che aveva il numero 68. Sì, è orribile. Purtroppo quando ci sono i cambiamenti di ora non facciamo il tempo a fare i cambiamenti. Con il numero 25, troviamo le piccole e veloci con il numero 25 e l'equipaggio Roversi Marini su una rally AMC Grand Sport del 28. Ragazzi, visto che è una macchina particolare sia di italiano, raccontatemi un po'. È una macchina paziente da Camprano, però mi fa un motore di 1804 cilindri. Il da 104 cilindri per Gogliani era? No, molto forte, molto divertente. Mi permette di ancora, ci vediamo a me, ciao ragazzi. Le prese con le vetture, numero 30, le due banshaw, numero 30 non contano niente, se qui comunque si tratta anche qui di una Bugatti 40. Parlate italiano? Sì. Mi voglio dire. Una Bugatti 40 del 29. Va bene. Parliamo di testicchi allora. Ci vediamo lì con la cenata. Con il numero 16, l'equipaggio Papagliola-Piona su Bugatti tipo 37 del 26. Che bellezza, che bellezza ragazzi. Mi raccomando, trattatela bene, è questa qui che deve tornare a casa. Eh, dai, ciao ragazzi, divertitevi. E con il numero 46, l'equipaggio prendo l'anca, betta dall'Italia, su Fiat 512, Sport Spider 1000 Miglia, del 1931. Ragazzi, bellissima questa vettura. Pensate che...